Io dico sulla questione libica una cosa. Noi siamo uno dei primi dieci paesi del mondo. Non è la prima crisi internazionale nella quale siamo variamente coinvolti. Quando c'erano governi seri abbiamo fatto le nostre scelte. Nel caso dell'Iraq siamo venuti via perché non c'era missione e copertura degli organismi internazionali. Nel caso del Kosovo e del Libano siamo intervenuti anche con una presenza militare e abbiamo portato la pace. Il mondo ha capito sempre quale fosse la posizione italiana. Qui siamo a un governo che per questioni di cucina interna o addirittura regionale interna sta cancellando ogni coerenza e visibilità della posizione italiana fino a farci perdere qualsiasi credibilità nella situazione internazionale. Noi non intendiamo che l'Italia appaia il mondo come un paese che tiene i piedi in quattro scarpe. Diciamo che l'Italia deve essere un passo avanti a tutti nel quadro delle alleanze per promuovere una soluzione politica e diplomatica. Questa è la nostra posizione. Quello che voglio precisare non si aspetti né Berlusconi né Bossi che noi si faccia da stampella uno svilimento totale della dignità di questo paese.